Amici Trebimeto, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni. Attenzione, andiamo a vedere come sarà il tempo per la festa di Ogni Santi, primo di novembre, che vedrà ancora atmosfera molto instabile nelle regioni centro-settentronali, ancora interessate dalla coda di alcune perturbazioni atlantiche che transitano in realtà sull'Europa centro-settentronale. Ma una volta passate rimonta un'area di alta pressione verso il Mediterraneo e Italia. Quindi chi avesse la possibilità poi di allungare la vacanza anche fino al weekend successivo, a quel punto troverà condizioni meteorologiche buone, ripeto, con il tempo che tende a sistemarsi sul nostro paese e tra l'altro anche con temperature che risultano relativamente miti per il periodo. Per sapere comunque come andranno le cose e vedere se questa previsione sarà confermata, consultate l'app gratuita di Trebimeteo.